Dopo tre giorni e tre notti di presidio ai quattro cantoni e l'assenza di risposte da parte dell'amministrazione comunale, i precari del comune, i cui contratti avranno scadenza a fine mese, hanno deciso ieri nel primo pomeriggio di occupare a oltranza la sede comunale di Palazzo Fibioni e in particolare la stanza del sindaco Massimo Cialente per trascorrervi la notte. Il primo cittadino è rimasto tranquillamente al lavoro davanti al suo PC insieme ai lavoratori in sit-in. A loro fianco i sindacalisti Rita Innocenzi della CGL e Simone Tempesta e le RSU. Nella stanza anche tre vigili urbani. La protesta andrà avanti fino a quando non ci sarà una risposta positiva da parte dell'amministrazione che a sua volta sta aspettando delle risposte dal governo e la protesta andrà avanti fino a quando non ci sarà un esito positivo per tutti quanti i precari. C'è molta attesa per la risposta all'interpello presentato dal comune e Anci ai ministeri della funzione pubblica e del lavoro dal quale dovrebbero arrivare risposte circa la proroga dei contratti per i 60 lavoratori in scadenza alla fine del mese. Secondo quanto riferito dal sindaco Massimo Cialente, i tecnici del ministero stanno redigendo il parere che dovrebbe essere inviato nelle prossime ore. I sindacati e i lavoratori tuttavia chiedono di più all'amministrazione comunale. Vogliamo che il sindaco e la giunta si attivino per la proroga a prescindere dalla risposta del ministero, ha detto Rita Innocenzi. Siamo stanchi di attendere. Da tempo sosteniamo che la proroga dei contratti è tecnicamente possibile e contenuta nell'articolo 11 del decreto enti locali. Ci aspettiamo che il contenuto della risposta all'interpello sia di supporto a una scelta politica che ad oggi, stante la situazione, non può che essere la proroga. Voi avete occupato la stanza del sindaco e vi aspettate che la giunta faccia qualcosa, ma di fatto la competenza non è squisitamente dirigenziale? Allora, qui dobbiamo capirci bene. La politica ha una sua responsabilità. Diversamente, ovviamente, si lascerebbero gli antilocali in mano soltanto alle figure tecniche. La figura tecnica ha la sua interpretazione delle norme. Noi da giorni diciamo che non vi può essere in questa città da ricostruire un'interpretazione restrittiva, perché non ci faremo mettere in ostaggio da figure tecniche che non hanno a cuore la ricostruzione.